bentornati su balconi tv sassari io sono laura e con noi oggi ilux ciao ragazzi cosa ascoltiamo un mondo perfetto benissimo enjoy the show mi dici che vuoi cambiare il mondo ma senza cambiare te stesso mi dici che ti ripudi la guerra ma senza pace te stesso mi dici che ami fare la cosa giusta ma senza amore te stesso mi dici che ora mi hai abbastanza ma senza pazienza te stesso tu ti lamenti tu chi fai contenti tu da chi ti difendi tu ti rappresenti ti dico che questo mondo perfetto se tu ci vedi riflesso te stesso ti dico che è una scuola a prigione fatta per anime da risvegliare ti dico che questo salto nel vuoto nel centro del fuoco occhio dell'infinito ti dico che è un biglietto speciale ti è andata diretta per un nuovo universo tu ti lamenti tu ti accontenti tu da chi dipendi tu alimenti tu alimenti mi dici che questo è un mondo perfetto mi dici che questo è un mondo perfetto ti dico che questo è un mondo perfetto ti dico che questo è un mondo perfetto se tu ci vedi riflesso te stesso grazie ragazzi allora è da un po' che ci rincorriamo in realtà con i looks però condizioni meteo avverse varie ed eventuali ci hanno tenuti lontani io ho una domanda intanto come mai siete in tre? cioè come mai siete in due? dovreste essere in tre? ci sei tu e siamo in tre no la domanda è posta giusta di solito c'è un batterista in un power trio e noi lo stiamo aspettando con amorevolezza va bene apparirà e tra l'ombra e la luce ma sta per arrivare si materializzerà ok raccontaci Luca parlo con te per adesso raccontaci un po' presentatevi insomma raccontaci un po' dei looks allora al basso Marco Pintus basso e cori Luca usa le voce chitarra i looks esistono da un po' di tempo partono come duo poi diventano un power trio si danno al rock più duro e sperimentale adesso in ballo c'è l'album nuovo siamo usciti con Elohim volume 1 nel 2015 insomma abbiamo avuto qualche critica positiva negativa abbiamo fatto qualche tournée anche fuori in Italia grazie a Brinca e adesso l'idea è fare il secondo volume adesso decidiamo se chiamarlo sempre così o dargli un altro nome comunque abbiamo una decina di brani pronti per essere arrangiati stiamo cercando il batterista migliore al mondo se ci stai guardando e ci ascolti e ti piace quello che facciamo vieni subito e siamo pronti per una nuova avventura ok quella che abbiamo ascoltato oggi è una super anteprima no? assolutamente sì tra i brani che potevamo scegliere da regalare e condividere con Balconi TV abbiamo pensato di fare appunto un inedito se così si dice un anteprima questo è un mondo perfetto potrebbe essere la seconda traccia del nuovo disco ok abbiamo spoilerato un po' dai benissimo un'informazione un sito internet o una pagina facebook dove essere informati guardare tutte le novità le notizie future date eccetera sicuramente facebook Lux Rock è la pagina ufficiale la trovate appunto scrivendo Lux Rock poi su youtube Lux Television poi c'è l'album tutti gli album sono caricati su Bandcamp Soundcloud mi sembra basta per ora ah Spotify c'è sì c'è anche Elohim volume 1 su Spotify perfetto grazie mille ragazzi per essere stati con noi oggi per averci ospitato grazie a voi e beh sì il balcone insomma da Balconi TV Sassari è tutto io sono Laura ilux io 班 mi sembra mi sembra che ci Grazie a tutti.